Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Forkrat Siamo sempre qui con Tech, Tearless, Eren ed Emerald Yeah, yeah Come non è vero? Oh, vabbè ok, Eren non c'è, uno in meno Così, ragazzi, quittate anche voi così è vinto Dai, Tearless, quitta Oh sì, siamo subito a vincere Vabbè, video finito, ciao a tutti, tutti a casa A parte le cazzate, bisogna parlare anche di cose serie Infatti nel video di oggi ci sarà una grandissima novità Sbam, apro l'inventario, ragazzi, abbiamo un jetpack e 32 di carbone Semplicemente questo jetpack andrà sostituito all'armatura che abbiamo addosso Prenderemo molto più danno perché non ci sarà protezione Ma in compenso potremo volare, che è una figata Quindi ragazzi, io sono già pronto, attiviamo un timer e partiamo Allora, 3, 2, 1, via! Yeah! Let's go! Pixelmon! Wow, quanto siete simpatici! Beh, almeno è una cosa fresca perché mesi fa non si poteva fare questa battuta Vero? Aha! Raga, io già ho preso il danno colpa del jetpack Nessuno passa da me? Dove sei, Eren? Ci penso io a te Ah, sei sulla montagna! Allora, andiamo a prendere cose Uh, che spazio! Oh, ma siete passi? Oh, ma cosa volete? Brodi! Per fare sempre le cose ai primi secondi di gioco Eh, guarda, è un insulto O brodo, non si dice Ah, brodo! Oh, 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 ho capito un jetpack Ah, no, è il mio No, ragazzi Perché se premi già la barra spaziatrice per fare un salto di un blocco Di parte il jetpack Ma infatti non devi usarlo adesso il jetpack Io manco l'ho indossato, raga Nemmeno io Io lo uso quando voglio Io lo uso quando voglio Oh, raga, ma quanto siete trasgressivi, veramente Cioè, mi fate paura così, eh Come dissero Wazzi, faccio quello che voglio Ragazzi, io ho trovato la minigun, ve lo dico Oh, io ho trovato qualcosa di esplosivo anche Anch'io ho qualcosa di esplosivo Cosa vuol dire qualcosa di esplosivo? Io ho le caramelle Ah, 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 ah Cos'è? Ah, pensavo fosse già il timer Ho detto, quanto passa più No, raga, è che, sai, per tenere attivo il timer Devo tenere attivo il suono Il telefono squint Il ragazzo è impegnato, eh Minchia, ragazzo, eh Cioè, il business proprio, eh Sì, è un ragazzo è impegnato, ma con me No, raga Ciao Ciao, ciao Alla prossima No, no, non puoi No, uomo Non voglio spoilerare nulla, ma Non puoi capire Ok, va bene Cioè, io ragazzi Mi fermo ora, ho già vinto praticamente Prima può scattare a Eural timer Va bene No, 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 no Era quasi un modo di dire È tuo il video, quello che dura meno di 10 minuti Puoi, mi fregheria Io faccio i video da 10 minuti, eh Anche meno Anzi, spesso i miei video Eh, perché non c'ho voglia Il video è quello Quello che esce Tano, e i soldi? Eh, i soldi Sai, me lo scrivono anche nei commenti Il mio canale è tipo Cioè, in genere c'è l'identità Dice, eh, il video da 10 minuti e un secondo Fai video per soldi No, da me, tipo Tano, ma dura 10 secondi in meno Cosa ti costava? Così Ma è giusto così? Sì, sì, però nel senso Se il video dura 9 minuti e 50 Non è che metto 10 secondi di schermo nero Sì Dovrebbero scriverti Mi hai deluso Non hai monetizzato il video Esatto Mi si iscrivo No Soprattutto Fai video per passione e non per soldi Chi mi hai mai parlato di passione? Di Giulia Passione Fra noi Guarda, io te lo giuro A Giulia e Passione Non ci ho mai giocato Ci giocava mia sorella Quando ce l'aveva piccola E io te lo giuro Guardavo lei giocarci Perché in verità volevo giocarci io Ma non c'avevo le palle Perché pensavo fosse una cosa troppo da femmine Però io te lo giuro E anche poi Era corretto Ere a posto No, nel senso Io veramente te lo giuro Volevo giocare a Giulia e Passione O The Sims A me piaceva troppo come gioco a The Sims Non ci ho mai avuto il coraggio Perché tipo Dicevo No ma è da femmine Così Però Io ci giocavo The Sims Eh io No, ero malato da piccolo Beh, non che adesso sia migliorata la situazione Infatti Se me è peggiorata Però adesso Sì, sì Un barret È una minigun E tanti amici Che mi vogliono bene A cui sparare Le mie idee Sono pazzie Oppure sono cose serie Perché ogni tanto A me vengono i dubbi Ma no Wow Eh ma che cazzo sta dicendo Spicy cosa No, ho fatto una spicy cosa Eh uomo Se te lo dico Lo fai anche te E poi non va bene Cioè Una di quelle cose che tu dici Sei un lezzo Beh Se io dicessi A Esmeraldo Di starsene al suo posto Eh no Non mi hai fatto nulla È chiunque tu sia Ma dimmi dove sei Ti aiuto io Pazzo Di già Eh ma raga Li dicono Non venire dalle mie parti Ma raga Era camperato shiftato No davvero Che novità Che novità Eh Avevo lanciagranate Inchia raga Ho trovato l'inferno L'armatura epica Eeeh Rip emerald Tutto l'ho trovato Quindi Battaglia aperta Dai ora Tutti contro Eren Perché c'ha tutto No cos'è che ha Non ho capito L'unica cosa aperta Sarà il vostro culo Avrà detto che c'aveva tutto Magari Eh Cioè Sì ma Ma dicono cose così a caso Sai No 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 Io avevo munizioni esplosive Della minigun Barrett Cosa Due medikit Un medkit Eeeh Un aug Ma mi chiedi a raga Tra l'altro Ho doppia carica Del jetpack ora No No è vero Vabbè ma tanto 30 le tocchiai retondo Quanto mai le avresti finiti Eh non è detto Io già ero a 24 Mi ero messo Bello ginonzolare Spreconi che siete Eh vabbè Ragazzi Sì però Imparerai l'educazione Alla prossima volta No 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 Ti imparerai non shiftare Mannaggia Shiftare Raga Era dietro l'angolino Shiftato Ma ti credo Io ti credo Quanto rosica sto ragazzo Mamma mia Te no ma Tanto tranquillo Eh me lo sappiamo Che ero in passato il tempo A camperare Cioè non è una novità Mettiamola così Pure il falso Ah giusto Avevo anche una jump Sei falso No Anche la jump no Vabbè Cioè avevi tutto letteralmente Cioè veramente Hai trovato il mondo te Ho trovato il mondo Sì Perché mi sono fatto la mia route Ormai Nella mappa Anche io in realtà faccio i route Però non trovo mai nulla Ma la tua route Non si confà con la mia Mi spiace Uh spicy Perché avuto si ferma dentro una stanza Che ha shiftato Vero Io non ci credo Ma va Eh ma va Voleva farti vivere E tu l'hai cretata Siamo sicuri Che devo tirare Il po' Oh il caputolo Cos'era? Ci sono Il po' di spazi Oh yes baby Ma esplosive No Sì No Ma raga cosa sta succedendo Così tutto in un tratto Oh mio dio Che spavento Tano Tirle Ti sei spaventato? Un po' No Guarda che saltare via con la giampa Ho sbattuto due volte Contro il soffitto di sto coso Come la mosca Tan tan Due coglioni E vabbè No ma te lo giuro Guarda Io mi ero immedesimato in te In quel momento C'era da cagarsi in mano tantissimo Cioè Mamma mia Ok Vabbè dai Già meno due E tra un po' suona anche Sì Ma il fatto è Il fatto è che Adesso con il Con i jetpack Potremmo salire E non accorgersi Che siamo in alto Beh quello è vero Ma considerando che Tra un po' Ci sarà anche la barriera Ehi Comunque ti ho visto Tano Ti ho visto passare Ho paura Guarda come siete Shiftati Come al solito Ovvio Shiftatissimo Come pochi Oh cazzo Ma fai veramente schifo Tranquillo Possiamo fare anche di peggio Come sempre Adesso vi vengo a prendere Se vuoi sapere dove sono Sono alla montagna Quella alta bianca Sì Ti ho visto planare Lì in zona Però non so dove ti sei fermato Alla montagna bianca Siete spicy però ragazzi miei Iniziamo Fare i camperini Camperini Ragazzi Rulottini Altro che Io non vi nego Che non mi piace Il mio posto Bravo Bravo Ciao Tec Ciao Cosa Tec Ciao Tec Cosa mi convini No sapete cosa È finito il carbone Tec No 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 Ho Praticamente Praticamente Stavo volando Ho fatto Sono atterrato su un albero Eh Di quelli rosa Ho fatto un salto E ho tolto il Ho tolto il Ho tolto Sono atterrato Ho tolto il Il glider Ho fatto un salto Non ho fatto il tempo a rimettere Non so schiattare No Ma quanta vita avevi Quanto avresti Ero fuggita Ero fuggita Sì ma lì Qua è proprio fail brutale Allora Sì 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 Un fail brutale Non so come ho potuto farlo Infatti come hai potuto farlo Io mi sono appena fatto male E vabbè Rip metanino Young me Young me Ho appena fatto la cazzata del secolo Purtroppo Non potevo imbarlo Ma com'è possibile Chissà dove sta camperando Eren No il fatto è che Eren L'ho visto ma mi ha visto anche lui A questo punto Sì Eh Lo so bene uomo Lo so bene Purtroppo era al bordo Ci crepavo Dove sei finito Eren Eren blitz Metanino Metanino Ho paura Lo so che mi hai visto Grazie al cavolo Tu hai visto me? No Dai come no Non so che ci fossimo visti a vicenda Eh no Ho visto più o meno dove sei Immagino che tu sia davanti a me precisamente Sai che Oh mio dio Succede per poco Tano vuoi fare quello che sto pensando io? No Sicuramente non è ciò che pensi Perché mi ricordo una cazzata Dragon Ball Ho provato a raggiungerti per barrettarti Oh mio dio No E questo è il problema Perché andando verso l'alto col jet Perché se tu sei sotto E mi tiri una barrettata Mi sciotti tantissimo E sono anche facili da prendere Eh sì ma era impossibile prenderti No ma io qua c'ho avuto un culo Ma do che devasto La minigarra esplosiva Comunque si conferma arma del secolo Cioè è troppo devastante Io ho detto Ma è possibile che non sia più lì? Dov'è? Mi ho No no Io ti lo giuro Sapevo la zona Ma non ti avevo visto Quindi ho detto L'unica è volare E prima o poi ti vedrò Figa Quindi ragazzi Spero che questo video Lezzissimo vi sia piaciuto Abbiamo fatto una cosa Lezzissima Con i jetpack Insieme a un'arma Assurda Detto questo I loro canali come al solito Trovate in descrizione E quindi ciao a tutti Ciao Bye Ah i jetpack Mi ha salvato Sparatemi Ma come sale Come sale Ciao Va fino all'infinite Oltre Oh madonna Madonna Guardate la pioggia Guardate